ciao ragazzi siamo imma evani il titolare dell'isola dei sapori in baia flaminia abbiamo avuto possibilità di fare uno spot con rozzini tv e ci siamo trovati anche molto bene anche da parte di clienti abbiamo avuto molti riscolti e ve lo consigliamo e vi aspettiamo ciao l'isola dei sapori di imma evani un mare di bontà